Come è ben noto, mi occupo molto di informazione che ha a che fare con tematiche religiose negli ultimi decenni. Pur se è vero che il mio campo specifico è la musica sacra, la liturgia, mi sono trovato in questi ultimi decenni ad occuparmi molto di tematiche che mi si presentavano come cerchi concentrici. Ho sempre detto e ripetuto che c'è una unione fra tutte le cose e che difficilmente uno capirà anche la musica sacra, per esempio, se non spazia di più con i suoi interessi culturali. Occupandomi di temi inerenti alla crisi della Chiesa, ho potuto osservare come ci sia un'esigenza, in certi settori, specialmente del mondo cosiddetto tradizionalista, di spiegarla usando varie teorie complottistiche, come se certi processi storici e di pensiero non possano essere osservati attraverso le loro lente evoluzioni nei secoli. Certo, è comodo identificare un fatto, una persona, un preciso momento della storia a cui attribuire la scaturigine di tutto, ma credo che la storia non funzioni così. Sia ben chiaro che non escludo che in alcune di queste teorie complottistiche ci possano essere anche degli elementi di verità. Esse sono ormai molto simili a mitologie, che non significa essere falso, ma sono rivestimenti più complessi di una data verità. Ma fare riferimento solo a questi fatti come indisputabile criterio per spiegare la crisi della Chiesa è molto miope, a mio avviso, e certamente non aiuta. La crisi della Chiesa viene da lontano e credo che, pur se singoli eventi possano spiegare un certo accelerarsi dei processi dissolutivi, essa vada compresa con uno sguardo disposto a soffermarsi sul lungo periodo.